Benvenuti da Scoop Esclusivo. Se sei appassionato di gossip e notizie, ti invito a iscriverti al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perderti neanche un video. Ogni like, commento e condivisione è un sostegno prezioso per me e per il lavoro che c'è dietro ogni singolo video. La tua partecipazione attiva è ciò che alimenta la crescita del canale e mi motiva a creare contenuti sempre migliori. Da giorni i suoi fan hanno dubbi sullo stato di salute di Chiara, prima il visibile dimagrimento, poi dei cerotti sospetti apparsi sotto i vestiti, e ora la febbre. Tuttavia, l'imprenditrice ha voluto rassicurare tutti affermando di essere semplicemente stanca. Chiara Ferragni colpita dalla febbre. La nota imprenditrice aveva organizzato alcuni giorni di vacanza a Disneyland per sé e per i suoi figli, in compagnia di alcuni amici con i loro bambini, ma durante il viaggio qualcosa è andato storto e Chiara non si è sentita affatto bene. Inizialmente aveva spiegato ai suoi follower di sentirsi molto stanca, forse a causa delle energie che servono per occuparsi dei piccoli, ma poi ha sviluppato la febbre. Il malessere. Mentre Fedez è rimasto in Italia per impegni di lavoro, Chiara si è dedicata alla piccola Vittoria e al piccolo Leone. Purtroppo, il secondo giorno di vacanza ha avuto una brutta disavventura ed è stata costretta a rimanere nella camera dell'hotel. Successivamente, ha aggiornato i suoi follower, ieri ho avuto una febbre di 38 gradi. Non so se è un colpo di caldo o un colpo di freddo, non lo so. Ho preso una tachipirina e adesso mi sento meglio. Ora trascorreremo le ultime ore qui a Disneyland e poi torneremo a Milano. Quindi ti invito a lasciare un like e un commento sotto questo video per farmi sapere cosa ne pensi e per contribuire al successo del canale. Grazie di cuore per il tuo supporto e per essere parte di questa meravigliosa community. Grazie. 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 Grazie.